Il garante regionale dei diritti della persona, una nuova figura istituzionale prevista dalla proposta di legge elaborata dalle consigliere regionali Nunzia Lattanzio, prima firmataria, ed Angela Fusco Perrella, una figura istituzionale di rilievo che dovrà segnare un rapporto nuovo tra i cittadini e la pubblica amministrazione vigilando sul rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti alle persone, ai minori e alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. La proposta di legge è stata rappresentata nel corso di una conferenza stampa alla presenza di un folto pubblico femminile, c'erano molte elette nelle amministrazioni locali tra cui quelle a comune di Campobasso, Bibiana, Chierchia e Alessandra Salvatore proprio alle donne elette in questa tornata elettorale. La consigliera Fusco Perrella ha rivolto l'invito a creare una rete sull'intero territorio molisano, poi la presentazione del provvedimento. Il garante dei diritti della persona, che dovrà quindi rappresentare e tutelare i diritti di tutti i cittadini dovrà anche accorpare a sé, quindi al proprio ufficio per competenza, le funzioni relative alla difesa e tutela dei soggetti in regime di limitazione della libertà personale. Quindi andremo ad occuparci di detenuti, persone comunque in regime detentivo alternativo alla pena e quindi in posizione domiciliare e chiaramente entriamo nelle strutture penitenziali della regione molise. La elezione del garante avverrà attraverso il voto segreto del Consiglio regionale e naturalmente i requisiti dovranno essere rigidissimi perché non dovrà essere in alcuna posizione di incompatibilità. Angela Fusco Perrella, memoria storica del Consiglio regionale, ha ricordato come la regione sia stata tra le prime in Italia a distituire una figura di garanzia per la tutela dei cittadini. Dobbiamo dire che il Molise ha recepito già dal 2000 alcune normative nazionali e soprattutto le raccomandazioni europee, per cui la legge, la regione molise legiferò nel 2000 per l'attribuzione della figura e il riconoscimento della figura del difensore civico. È stato superato e adesso c'è il difensore dei minori, ma il garante coprirà le funzioni dell'uno e dell'altro. Non potesse uscire da questa crisi.